Buongiorno a tutti, sono sempre Vittorazzo Antotto, allora prima di iniziare con il video di oggi vi ricordo che sono gli ultimi giorni per approfittare dell'offerta che trovate sul sito della Bottega del Nerd, dove trovate un sacco di action figure, prop replica, statue e quant'altro, su tutti i brand cinematografici, seriali, videoludici più famosi di sempre. L'offerta consiste nel fatto che se spendete più di 100€ sul sito avrete in omaggio un oggetto del valore compreso tra 15-20€, tra quelli selezionabili come tazze, ciondoli nerd, zerbini e un sacco di altri prodotti che potete usare anche come regalo di Natale a un parente, un amico, a chi volete, quindi trovate il link in descrizione sotto. Ma adesso, bando alle ciance, parliamo di un trailer che è uscito, ovvero il primo teaser trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Lo stesso che abbiamo visto in un film recente, ok? Lo avevano messo lì e fondamentalmente io l'ho già visto, però siccome l'ho visto in sala vorrei riguardarlo adesso, quindi non sarà una reaction in cui mi stupirò delle cose perché già le so, però comunque magari noto qualcosa di nuovo e poi ne discutiamo. Vediamo un po'. Eccoci, eh sì. E qui ci sono riferimenti a Spider-Man away home. Queste sono proprio le frasi che vengono dette nel film. Eccolo qui. Oh là là, è tutto destrutto, come potete vedere. A me piace questa devastazione. Non ho mai voluto che tutto questo accadesse. Da capire, eh. Eh sì. Mi piace tutto a specchio come What If, no? Che c'erano gli multiverse a specchio. Qua, vabbè. C'è lei, ok? Che è lì a fare l'agricoltrice. Sapevo che prima o poi saresti arrivato. Ho sbagliato. Eh. E qua c'è il riferimento. West, io infatti. Allora perché sei qui? Ci serve il tuo aiuto. Ma ci sarei... Chi è ci? Ci serve. Ecco qua. Beh, questa scena è bellissima. Qua è mordo. Che non è più cattivo? Guardala con il costume nuovo. Anche questo è molto figo. Quello che vado a dire. Per il nostro universo. Eh. Qua vedo dei mostrozzi. Attenzione. Qua, ecco. Qua. Sei tu. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Abbiamo perso il controllo. Ci sono tante domande. Ci sono tante domande. Sono molto curioso. Molto curioso. Eh, sì. Sì, sì, sì. Maggio 2022. Perfetto. Allora, come avete potuto vedere, è un teaser trailer molto interessante e io sto aspettando questo film soprattutto perché mi interessa molto il fatto che sia diretto da Sam Raimi che torna dopo il grande e potente Oz, film di ormai una decina d'anni fa, a dirigere un prodotto anche particolarmente atteso. Questo film è conseguenziale a Spider-Man No Way Home e in virtù di quello che è stato fatto in questo film, siccome avevano cambiato un po' la sceneggiatura quando ormai Doctor Strange in The Multiverse of Madness era già stato girato, hanno dovuto fare sei settimane a dire shoot recentemente e questo è interessante perché credo abbiano aggiunto un po' di fanservice, hanno aggiunto delle scene secondo me con personaggi a cui non avevano pensato perché hanno capito che il fanservice in Spider-Man No Way Home ha funzionato tantissimo e infatti ci sono dei rumor sul fatto che vedremo Wanda combattere con l'Oxavier di Patrick Stewart, a me piacerebbe tantissimo ma se Wanda dovesse incontrare Magneto sarebbe ancora meglio perché c'è un universo in cui lei è la figlia di Magneto, non è questo ma sicuramente ci sarà un altro universo nel multiverso in cui come nei fumetti è figlia di quel personaggio, comunque sia. Questo trailer è interessante perché sembra che ciò che è accaduto in Spider-Man No Way Home abbia delle conseguenze, il multiverso è stato compromesso e Doctor Strange deve interfacciarsi con questa cosa e ha bisogno di Wanda che vediamo lì che coltiva le piante, si cita ciò che è accaduto in WandaVision e questo mi fa molto piacere anche se penso che non ci saranno dei collegamenti diretti ma solo delle citazioni e la vediamo con il costume con cui la vedevamo nel finale di WandaVision mi chiedo se questa cosa verrà spiegata nel film oppure se semplicemente la vedremo con il costume e via perché io credo che nel film daranno una spiegazione più a quel costume in modo che uno che non ha visto WandaVision lo capisca lo stesso rendendo i collegamenti con la serie piuttosto labili e non capisco come faranno se non mettono dei collegamenti un pochino più stringenti perché questa Wanda non è la solita Wanda, è una Wanda cambiatissima e cambia proprio in WandaVision ma comunque vediamo diverse cose interessanti possiamo vedere di spalle America Chavez ovvero Miss America che è un personaggio dei fumetti c'è stata la diffusione dell'immagine del merchandise recentemente quindi una cosa ufficiale non è un leak non è un rumor e vediamo Shuma Gorat tra i pupazzi che ci sono vediamo Mordo indicato come Master Mordo io mi aspettavo che nel rivedere Mordo lo avremmo trovato cattivo come sembrava alla fine del primo Doctor Strange invece Mordo interpretato da Chewetel Age of War sembra essere non cattivo in realtà da quello che si vede poi capiremo che Mordo ha sicuramente un'evoluzione simile a quella dei fumetti quindi non è propriamente cattivo ma vedremo e poi c'è anche The Spare che è un nemico minore che ha affrontato anche Spider-Man ma che è comparso per lo più sugli abiti di Man-Thing se non sbaglio che è un personaggio che conoscono veramente in 12 mi sono ritrovato a prendere che ci sarà non so quanto sarà importante ma ci sarà questa cosa interessante e quindi il trailer ci mostra delle cose che secondo me non sono male come ad esempio questi mostri Lovecraftiani che mi hanno ricordato molto quelli che evoca in What If il cosiddetto Supreme Strange prima di diventare quella versione distorta del Doctor Strange che conosciamo e questo mi è piaciuto parecchio devo dire è una cosa che ho apprezzato mi sembra che da un punto di vista delle immagini della CGI e proprio da un punto di vista estetico sia qualcosa di fantastico quando lui e America Chavez aprono la porta e si trovano su questo vuoto cosmico e quella scena è pazzesca ti toglie il fiato e poi abbiamo anche dei momenti che personalmente mi sembrano molto emblematici come quello in cui si trovano in questa stanza che sembrerebbe essere la stessa in cui si trovano alla fine di Locke o meglio non è propriamente la stessa perché sono andato a controllare ci sono delle differenze ma il setting è molto simile quindi sembrerebbe una cosa di quel tipo da capire se sia quello oppure no quindi è in questo film che potrebbero esserci dei collegamenti a Locke e lo vediamo confrontarsi con un altro Strange che dice abbiamo perso il controllo. Ora fin da quando il trailer è stato diffuso nelle sale cinematografiche prima che venisse rilasciato diciamo che tutti si sono chiesti ma è Supreme Strange? A me sembra diverso non mi sembra che abbia lo stesso abito mi sembra che abbia un'attitudine differente quindi magari è solo una scena di 30 secondi in cui si interfaccia con un'immagine di sé non è veramente un suo doppio è un inganno però è interessante perché comunque ti porta a pensare che ci possono essere dei collegamenti con Locke e con What If tanto più che nella presentazione di Locke e Marvel Studios si vede questo effetto specchio che può essere un rimando alla dimensione specchio io ci ho visto un rimando a come in What If si vede il dietro le quinte del multiverso con queste specie di frammenti di specchio non mi dispiace come idea quindi è interessante è un teaserino che non ti dice niente non ti dice qual è la trama bisogna capire che problema c'è col multiverso è questo il fatto perché secondo me è una questione multiversale non esplicita come in Spider-Man Away Home cioè non è il multiverso che sta collidendo con altre realtà devono andare nel multiverso perché c'è qualcosa forse che si sta incrinando ma in maniera più spirituale forse non in maniera tragica come stava accadendo in Spider-Man Away Home non lo so so solo che vedere questo Doctor Strange che interagisce con Mordo mi interessa vediamo ancora Wong e spero che vadano a risolvere quelle controversie sul personaggio che ci sono in No Way Home ora non voglio fare spoiler quindi ok però in No Way Home l'ho detto anche nella parte non spoiler della mia recensione troviamo un Doctor Strange un po' diverso nel senso che è un Doctor Strange che vive una situazione completamente differente rispetto a come l'avevano lasciato secondo me in questo film si ripristinerà lo status quo ma da capire come si ripristina lo status quo voglio vedere anche il suo rapporto con Wong perché in No Way Home i due sembrano in tensione per qualcosa non so se è per una cosa che viene detta non so se è per la situazione in cui si trova Doctor Strange ma non sembrano andare d'amore d'accordo come un tempo magari ci spiegheranno il perché qui poi voglio capire in che modo verrà coinvolta Wanda perché noi vediamo che qua Wanda c'è che a un certo punto la vedremo con il costume quello nuovo e allora io voglio capire ho bisogno fisico di comprendere perché Wanda c'entra così tanto e perché Doctor Strange dice ci serve il tuo aiuto chi sono loro perché ci Mordo, Wong America Chavez si sono già incontrati chi sono loro e perché sono coinvolte proprio queste persone è questo il fatto poi tra l'altro lo vediamo a un certo punto che con delle persone che corrono dietro vediamo questi mostri che sono nella nostra realtà il multiverso si è aperto di nuovo io prima ho detto che non mi sembrava però effettivamente se vedi quelle scene si è aperto di nuovo il multiverso mi sembra strano io credo che stavolta sono loro questi personaggi ad andare nel multiverso e non il contrario e penso che siano loro ad andare negli altri universi anche perché in alcuni momenti sembra evidente se notate c'è un punto in cui c'è il personaggio di Rachel McAdams che va verso Strange vestita dalla sposa e lui è vestito dalla sposo quindi probabilmente è un altro universo in cui lui e lei si sposano oppure può essere un'illusione creata da Wanda non lo so perché il ruolo di Wanda è abbastanza nebuloso qui voglio capire effettivamente a cosa serve lei però è interessante notare che abbiamo questa sorta di realtà alternativa non è più il multiverso che collide con la nostra realtà sono loro che vanno nel multiverso e quindi può essere che a un certo punto quello che ha fatto Sylvie in Loki abbia per l'appunto una ripercussione magari scopriamo che quello che è successo all'incantesimo non era propriamente colpa dell'incantesimo stesso ma è stato favorito da ciò che è successo in Loki può essere che sia quello a me non dispiacerebbe sinceramente poi tra l'altro guardando bene il trailer si vede un'altra quella che sembra essere una terza versione di Strange quindi magari vedremo altre versioni di personaggi tra l'altro avevano detto che in questo film in teoria secondo quelli rumor ci sarebbero stati Speed e Wiccan i figli di Wanda che abbiamo già visto in WandaVision che dovrebbero però comparire anche in una versione cresciuta e penso che a questo punto li tireranno fuori dal multiverso per portarli nell'MCU e farli magari entrare in quelli che saranno in futuro gli Young Avengers perché sono due personaggi che secondo me hanno un futuro aperto nell'MCU e mi chiedo se comparirà il Visione Bianco chissà sta di fatto che WandaVision potrebbe essere interessante da guardare perché io non credo che ci saranno collegamenti molto stringenti allo stesso tempo mi chiedo come fai visto che questa Wanda è maturata in quel prodotto e sarebbe strano trovarla completamente diversa qui io poi confido in Sam Raimi che è un cazzo di mostro dicono che questo film dovrebbe essere il primo film horror un horror per ragazzi dell'MCU non ho avuto propriamente queste vibes quindi dubito un po' su quella dichiarazione devo essere sincero però quello che ho visto è un teaser intrigante anche solo per il nome del regista io comunque lo voglio andare a vedere ed è senza dubbio uno dei film che aspettavo di più per quanto riguarda l'MCU a prescindere da quello che ho visto in No Way Home a me del film interessa fino a un certo punto ciò che mi interessa realmente è il regista perché se c'è una persona che può realizzare un horror per ragazzi fatto come Dio comanda quello è Sam Raimi ma soprattutto c'è anche una cosa che mi interessa capire è capire come gestiranno il multiverso perché finora noi abbiamo visto tre prodotti con il multiverso che sono Loki, What If e Spider-Man No Way Home e ancora non abbiamo ben chiare le regole definite ce n'è una sola ovvero quella del punto fisso che peraltro veniva più che altro mostrata nella puntata in cui c'è Supreme Strange in What If ed effettivamente sembra che questa cosa venga perseguita sembra che la rispettino quindi in Doctor Strange in The Multiverse of Madness pretenderei un po' più di chiarezza sul funzionamento del multiverso perché non è che puoi fare il cazzo che ti pare dicendo ma si succede così perché si no vorrei capire dammi delle regole dammi un sistema magico un po' più compiuto lo vorrei lo pretenderei anche devo essere sincero quindi non mi dispiacerebbe vedere qualcosa di un po' più strutturato onestamente quindi sono estremamente curioso e vediamo come gestiranno questi nuovi personaggi soprattutto America Chavez interessante anche se devo essere sincero non crea un po' confusione perché a vederla così io ho paura che possa somigliare un po' troppo a Miss Marvel sono due personaggi diversi però non so perché hanno c'è un che di somigliante quindi voglio vedere come li differenziano i poteri sono differenti d'accordo però tra l'altro voglio capire in che modo la infilano America Chavez si vede la vediamo di spalle la ragazza col giubato di jeans con la stella è lei quindi vediamo un po' come gestiscono il tutto sicuramente è un trailer molto promettente io sono curioso si vede questo confronto con il doppelganger è interessante non sono assolutamente convinto che sia Super Strange ma è qualcos'altro sta resta da vedere che cosa però è un trailer che sicuramente mi intriga non vedo l'ora che sia maggio per poter vedere questo nuovo film di Sam Raimi che guarda caso sembrerebbe essere anche un ulteriore tassello molto importante tanto per l'MCU quanto per questa branca che stanno portando avanti dei film prodotti in generale dell'MCU riguardanti il multiverso quindi io sono estremamente completamente curioso ma voglio sapere la vostra opinione fra il suo conto qui sotto perché è sicuramente un trailer di cui volevo parlare da una settimana ma ho aspettato che lo rilasciassero per poterne parlare perché mi andava di farlo ufficialmente quindi vi abbraccio vi ringrazio infinitamente grazie per aver ascoltato fin qui e noi ci vediamo al prossimo movieblog e in realtà se vogliamo stare a vedere ci vediamo dopo con il video sull'ultima puntata di Okai però mi andava di dire la solita frase ciao a tutti ci vediamo dopo un po'